Per riservare il classico esempio di uomo phoenix, guardate la finezza dell'intaglio, l'accuratezza della carne tagliata e come viene divorata con gusto. Passiamo poi al soggetto normale che brandisce normalmente una forchezza, taglia con veraci, non taglia, passiamo direttamente così alla versione vichinga del manziatore, bevitore di porco. Guardate la, guarda, è indiscutibile. Non ci sono parole per commentare.